salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a presentare i nuovi draghi i draghi del nuovo tier verdant e andiamo a vedere tutte le caratteristiche le magie e tutto ciò che c'è da sapere riguardo a questi draghi avranno un costo di 1600 frammenti di uova quindi un più o meno sarà sicuramente un costo intorno ai 320 mila uova per generarli servirà l'incobatrice a livello 17 è un livello minimo del giocatore pari al livello 490 gli avremo esperti a livello 40 con tana del drago a livello 125 in questo video andiamo a vedere i due stregoni primo rosaeus generabile con valor più caldur secondo cepot generabile con brutus più caldur partiamo da rosaeus e partiamo dalla sua prima magia magia rossa costo di attivazione di attacchi di rabbia consente al drago di schivare tutti gli attacchi senza raggio nel mentre vola a una velocità ridotta pari al 25 per cento della sua velocità normale e danneggia le torri vicine del 6 per cento sia che più modificati per ogni secondo della sua durata pari a 4 secondi e ha un tempo di recupero di 6 secondi seconda magia magia bianca costo di attivazione di due tacche di rabbia danneggia la torre bersaglio di un danno pari al 2500 per cento del suo attacco tempo di recupero pari a zero terza magia magia blu a costo di zero tacche di rabbia spende 16 per cento dei suoi hp per recuperare due tacche di rabbia tempo di recupero due secondi terza magia magia blu a costo attivazione di una tacca di rabbia consente al drago di guarire e del 30 per cento di se capi modificati in due secondi passiamo adesso a c'è poter la sua prima magia magia bianca costo attivazione di una rabbia consente di lanciare rapidamente due volte capsize magia che comunque congela delle torri le torri bersaglio per quattro secondi e le danneggia per il 13 per cento degli hp modificati dal drago tempo di recupero di questa magia a quattro secondi seconda magia magia bianca costo di due tacche di rabbia evoca una nave fantasma che infligge 3.5 per cento degli hp modificati dal drago come danno alle torri ea una salute pari al 130 per cento degli hp del drago tempo di recupero di questa magia a 4 secondi terza magia magia blu a costo attivazione di una tacca di rabbia consente la sua attivazione di recuperare tre tacche di rabbia e recuperare il 20 per cento degli sui hp modificati ad ogni torri distrutta durante tutta la sua durata durata che di questo incantesimo che di 4 secondi così come anche il tempo di recupero di 4 secondi ultima magia magia bianca costo attivazione di zero tacche di rabbia uno scudo che lo rende il drago immune a tutti i danni in arrivo per tre secondi e mezzo blocca anche supercorpi delle torri magie e ha un tempo di recupero di cinque secondi bene anche questo video termina qui se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina in modo tale di essere sempre aggiornati lasciate anche qualche commento se avete pareri inerenti a questi due draghi e come sempre ci vediamo un prossimo video ciao